Sono in natura, arrivo a Pier Erba. Dio Dio, mi abrivi di Erba, non ci immagino, non ci sento, non ci sento. Dio Dio Dio, mi abrivi di Erba. 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 Grazie a tutti. 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 Cos'è? Ricotta affumicata da grattugiare sulla pasta. Cos'è? Ricotta affumicata da grattugiare sulla pasta. Ah che bello, grazie. Buongiorno. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti